Firmato questa mattina a Palazzo San Giacomo un protocollo d'intesa fra il Comune di Napoli e l'Associazione Spazio alla Responsabilità per promuovere la responsabilità sociale nei modelli di impresa pubblica e privata. Un protocollo che parla di due questioni per noi fondamentali. La prima rating di legalità ovvero il rispetto di alcuni prerequisiti per le aziende che parteciperanno ai futuri bandi di gara del Comune di Napoli ma soprattutto spazio maggiore a chi offre requisiti maggiori assumendo in proprio una serie di responsabilità rispetto ai propri lavoratori e rispetto il territorio. L'altro aspetto riguarda questo tema della responsabilità sociale ovvero fare azienda significa parlare anche del futuro di un territorio degli investimenti di un progetto che riguarda i cittadini. Noi intendiamo valorizzare con la sottoscrizione di questo protocollo l'uno e l'altro aspetto. E' uno dei temi al centro del protocollo d'intesa per la responsabilità sociale con cui il Comune di Napoli aderisce al forum permanente della Campania. Un tavolo multistakeholder con oltre 50 organizzazioni aderenti, tutto il sistema datoriale con riferimento anche a quello sindacale, il mondo delle professioni, il terzo settore, tutti insieme e uniti per lavorare insieme appunto nella identificazione delle criticità e soprattutto delle azioni comuni che si possono portare avanti. Attenzione puntata sul rating di legalità, un criterio introdotto dal legislatore italiano per incentivare l'inserimento di principi etici nei comportamenti delle organizzazioni pubbliche e private e per favorire le imprese virtuose nell'accesso al credito bancario e ai finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni. Legalità conviene, conviene anche economicamente e con questo protocollo lo dimostriamo. Corsie di vantaggio anche economico per chi rispetta la legalità, non solo ascolto, ma reti di solidarietà e costruzione di percorsi giuridici che mettono in condizioni di vantaggio economico anche chi nella vita di un'impresa o nella vita professionale ha sempre rispettato la legge, agito con correttezza, nel rispetto della concorrenza, con professionalità, competenze e qualità. E poi l'obiettivo di creare un'economia reale forte dal basso, solidarietà e lotta alle disuguaglianze sociali ed economiche che sono ancora forti nella nostra città come altrove. Grazie a tutti.